Suzuki che ha sempre scelto di allenarsi con Hiroshi Nakakubo per cui 12 anni insieme non ha mai voluto provare esperienze all'estero quindi ha costruito la sua fortuna in Giappone, lavora in Giappone, quindi davvero un altro idolo del pubblico giapponese tra l'altro una ragazza che ha saputo dimostrare di andare oltre i problemi che ha avuto con i disturbi del cibo con l'anoressia che lei ha voluto rendere noti proprio perché per dimostrare che come vedete si può tornare a pattinare e diventare anche campionese ancora. E allora andiamo a seguire insieme Ksenia Makarova, l'atleta di San Pietroburgo che però si allena in America. e va molto bene la combinazione triplo torto e giotolo. va bene anche il triplo lupo 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 Non puoi andare più a casa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.